Hellooo! Mi sono anche rotta di usare questa cosa dei preferiti perché in realtà non funziona bene quindi semplicemente diventerà il video mensile un cosa ho fatto il mese precedente più all nel senso che cosa ho comprato il mese precedente per cui iniziamo da cosa ho fatto il mese precedente il mese precedente ma è giusto dire così suppongo di sì cosa è successo ok cosa è successo nell'ultimo mese ho dato di matto allora questo penso di poter racchiudere così il mio mese di luglio io ho dato di matto per amore dico amore tra virgolette perché mi piace usare termini un po' esagerati ma in realtà alla fine mi rendo conto che io sono solo un po' pazza ed esagero con le parole anche se non dovrei comunque è successo che ho imparato a fare più o meno a meno dei social media grazie alla persona per cui ho dato di matto e poi ho dato di matto vi racconto brevemente senza scendere nei particolari comunque io solitamente impazzisco un po' quando finiscono le mie relazioni vado un po' di stalking e avevo iniziato una sorta di relazione che non si è mai ufficializzata con un tipo e io mi ero convinta che lui era l'uomo della mia vita ora siccome è una cosa che non mi succede tanto spesso nel senso sono una persona che si adatta molto alla persona che è accanto e quindi solitamente passo sopra tutte le cose negative dei miei partner del momento dicendo vabbè ma tanto può funzionare bla 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 non rendendomi conto che invece dovrei forse non pretendere di più però nel senso dovrei un po' essere diversa e ferma per certe cose e quindi mi stavo vedendo con questo tipo il punto è che io sono stata allora su questo vi ho già detto che vi devo fare un video in generale sull'amore comunque io ero stata ultimamente sei mesi con un tipo che era un folle cioè veramente un bravo ragazzo però era un folle e quando la mia relazione con lui era finita io avevo immediatamente volevo buttarmi su qualcun altro perché sono dell'idea che chiodo schiaccia chiodo soprattutto per una come me che appunto si adatta facilmente alla persona che è accanto e quindi immediatamente avevo conosciuto quest'altro ragazzo con cui per la prima volta avevo avuto dei pensieri profondi di relazione nonostante lo conoscessi da poco e quindi io passavo sopra il fatto che a lui non gliene stesse fregando niente di me credendo che a lui gliene fregasse di me comunque morale della favola lui mi ha lasciata anzi mi ha detto che potevamo rimanere amici e ha provato a modo suo arrestare mio amico per cui io per più di un mese non sono riuscita a staccarmi da lui perché comunque continuavamo ad avere contatti finché ho detto senti basta questa storia dell'amicizia non funziona e ho dato di matto per l'ultima volta nel senso proprio sono andata al suo posto di lavoro dove lui non c'era io ho mandato 3 miliardi di messaggi messaggi vocali insomma proprio ho fatto la mia scenatona e alla fine l'ho lasciato andare e mi sento veramente veramente meglio mi sento veramente meglio perché non avere contatti con le persone ti permette veramente di dimenticarle lontano dagli occhi lontano dal cuore e quindi adesso che ho smesso di scrivergli eccetera e che abbiamo avuto questo litigio per cui anche lui ha smesso di mi mandava ai tempi video su snapchat comunque anche lui che ha smesso di farsi vedere io sto molto meglio perché per tutto quel mese in cui ci sentivamo io pensavo ah ma forse se lui ancora mi manda video forse gli piaccio poverina Giuliana non funziona così quando tu piaci a una persona piaci a una persona quando non piaci a una persona non le piaci punto fine della storia non ci sono video, foto, telefonate che tengano per cui se una persona ti vuole nella sua vita ti vuole veramente nella sua vita non tramite messaggi non tramite snapchat non tramite ste cagate qua e mi ricollego al fatto che ho imparato a fare più o meno a meno dei social grazie a questa persona non so perché mi sento di dover ringraziare lui veramente però non lo so ho cancellato facebook un mese due giorni fa perché l'ho cancellato il primo di luglio e non sono mai più entrata mentre precedentemente avevo provato era durato solo un paio di giorni usavo il mio altro account per dare un'occhiata adesso il mio altro account è il mio primo account facebook che avevo fatto anni fa e che poi mi era stato bannato e per questo ne avevo creato un altro adesso invece il mio profilo ufficiale l'ho disattivato completamente e l'altro mi serve solamente perché sono amministratrice di certi gruppi e se dovessi disattivarlo resterebbero senza amministratore comunque storia lunga ma non ci entro non mi interessa cioè io dopo otto anni di dipendenza da facebook l'ho abbandonato l'ho abbandonato ma non dico che non ci rientrerò mai più perché potrebbe benissimo rientrarci e dare un'occhiata ma non mi interessa non mi interessa mi sono resa conto che le persone che io seguo e di cui mi sono circondata per tutta la vita sono persone di cui non mi interessa ora se voi che mi state guardando mi avete come amica su facebook non significa che non mi interessa di voi però nel senso che che veramente il cerchio si restringe e forse potrei restare solo io in questo cerchio non dico ciao la mia conquilina che va al lavoro non dico che che ovviamente io resterò da sola eccetera però meglio soli che mal accompagnati è meglio interessarsi della vita di poche persone perché a me non mi interessa di vedere i vostri figli come crescono non mi interessa di vedere la pizza che mangiate il sabato non me ne frega di vedere i vostri viustel al mare cioè a me non me ne frega la vostra vita è una vita come la mia e questa roba dei social mi era sfuggita di mano perché che motivo c'è di seguire la vita di una persona normale che fa cose normali di vedere dieci pizze al giorno da dieci persone diverse dieci piatti di sushi al giorno da dieci persone diverse dieci gatti diversi da dieci persone diverse che senso ha questa cosa? che senso ha questa cosa? e quindi ho smesso anche io non solo di di seguire queste persone ma anche di condividere troppo della mia vita tanto che Snapchat continua a piacermi e seguo solo chi dico io ed è una liberazione perché appunto scelgo io cosa voglio vedere senza che mi spuntino cose da persone di cui non me ne frega eccetera e perché su Snapchat comunque pubblico io quello che voglio quando voglio posso dare particolari come posso non darli per cui lo uso in una maniera più ponderata diciamo Instagram Instagram l'ho sempre usato poco nel senso che il mio profilo è molto più dedicato non so tipo alla street art che a me stessa quelle robe di selfie e cagate varie non le ho fatte mai credo tranne quando non sapevo come usare bene Instagram comunque questo video durerà 200 anni perché adesso vi devo raccontare tutta la mia vita mi sto sfogando mi sento meglio eccetera e quindi comunque devo dire che il mese di luglio mi è servito per impazzire per per soffrire per lasciare andare le persone quando tu capisci che che non ti vogliono non dico per riprendere in mano la mia vita perché non so se l'ho mai persa ma non so neanche se l'ho mai presa in mano o se la prenderò mai in mano comunque una grande lezione che ho imparato sull'amor proprio quando le persone ti dicono tu ti devi amare perché solo così gli altri ti ameranno ho capito questa è una grande bugia tu ti devi amare non per essere amata ma ti devi amare aspetta era tipo una massima filosofica che mi era venuta in mente cioè non è che se ti ami gli altri ti ameranno ma se ti ami non permetterai a chi non ti ama di farti del male ma li lascerai andare senza l'emosinare briciole come io ho sempre fatto ed è una cosa sbagliata perché se se tu altra persona non mi ami non devi stare nella mia vita per per farmi sentire non amata te la devi andare dai il tuo amore se ce l'hai se sei in grado di provarlo a qualcuno dallo a qualcuno e basta poi c'è stata la mia amica per tre settimane qui a casa quindi abbiamo siamo stati insieme in camera abbiamo fatto lunghe lunghe camminate perché lei è una molto attiva per lunghe camminate intendo tipo dieci chilometri al giorno con 30 gradi perché ha fatto un caldo allucinante nel mese di luglio e il giorno in cui se ne è andata è stato il primo vero giorno in cui sono stata da sola in un mese e complice anche la sindrome premestruale ho avuto una bella serata di disperazione di pianti e di sofferenza e adesso mi sento molto molto meglio inoltre sempre per aggiornarvi sulla mia sul sulla va bene sempre per aggiornarvi sui miei sulle mie emozioni la mia negatività è arrivata ad un punto che ho avuto delle discussioni con un paio di persone ho dovuto provare a lasciarla andare perché l'altro giorno è successo che una mia collega ed amica mi ha detto che lei mi ha detto cioè lei da quando la conosco ha una personalità molto forte è simile a me comunque simpatica ma molto cioè non te le da dire le piace litigare fare e dire e è questa mia collega da quando la conosco adesso ha un po' iniziato a dire che schifo odio mi fa schifo è disgustoso bla 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 e l'altro giorno mi ha detto Giuliana io ti voglio bene mi piace lavorare con te e sei la mia amica ma ti devo dire una cosa tutta la mia negatività deriva dal fatto che trascorro troppo tempo con te e mi sono resa conto di questo perché prima di conoscerti non usavo mai parole come schifo merda scusando il termine odio e tutti questi termini forti che io ho sempre usato nella mia mente cioè nella mia mente nel senso le ho esternate però che pensavo fossero simpatiche o comunque modi di dire cioè io non ho mezze misure al posto di dire quella cosa non mi piace dico mi fa schifo e la odio ma non significa che è proprio un vero sentimento di odio però uso questo termine perché è più comodo eccetera e lì mi si è accesa una lampadina perché ho pensato questa cosa mi è sfuggita così tanto di mano che adesso io porto malessere alle altre persone e io non posso portare malessere alle altre persone non accetto di portare malessere alle altre persone perché ognuno merita di vivere una vita felice me compresa perché penso di meritarlo anche io e perché questa negatività io me la trascino da anni ma non è veramente giusto che le altre persone debbano subirne le conseguenze debbano anche loro sentirsi nervose negative e provare rabbia verso la vita a causa mia non perché io abbia questo potere ma perché ovviamente stare tante ore in compagnia di una persona così negativa evidentemente funziona veramente per questa storia dell'abisso e del buttarsi giù e mi è dispiaciuto così tanto e i miei ultimi due ragazzi mi hanno detto la stessa cosa sul fatto della mia negatività mi è dispiaciuto così tanto che non è più possibile che io mi butti così giù e butti così giù le altre persone non è giusto non è proprio giusto per cui non dico di essere la persona più positiva del mondo ma certamente sto facendo più caso a quello che dico a quello che faccio alle mie espressioni e a come mi rapporto alle altre persone e mi sta servendo per cui io certamente ringrazio l'ultimo tipo con cui mi sono vista e ringrazio la mia collega per avermi detto questa cosa e basta nel frattempo ho fatto il compleanno il 23 luglio non ho festeggiato perché non mi interessava festeggiare però il giorno dopo la mia coinquilina mi ha fatto una torta carina e ho spento le candeline e basta e poi niente credo di essermi sfogata abbastanza per oggi non so se ho qualche altra cosa da dire però non penso comunque sono pronta a qualche novità sono pronta a qualche novità carina nella mia vita oggi sto indossando questo rossetto di H&M che si chiama Rust Me ed è una sorta di nude tipo un po' sul bordo fucsia spento però tipo nude marrone va bene non so come spiegarlo passiamo alla parte frivola del video in cui vi dico prima tre canzoni che mi hanno ossessionata per tutto il mese di luglio vi metterò poi allora io pubblico il video dal telefono quindi poi quando sarà pubblicato quando sarà quando verrà pubblicato dal telefono poi accenderò il computer e vi metterò i link e tutto per cui all'inizio non li troverete magari ma li metterò in seguito tre canzoni che mi hanno ossessionata tutto il mese sono una super estiva anzi due super estive che mi hanno dato una boost of confidence ogni volta che le ascolto ballo e canto per strada e mi sento felice una mi ha ossessionata la prima metà del mese e una l'ultima metà del mese e sono so che una si sente tantissimo anche in Italia ed è Kung qualcosa e si chiama This Girl ed è bellissima e un'altra è di Jonas Blue e si chiama Perfect Strangers e sono stupende stupende allegrissime felici summertime cocktail spiaggia bagni eccetera e un'altra invece è una Old But Gold ed è Lori Neill Ex Factor che l'ho ascoltata tantissimo nei miei giorni di sofferenza e che continua ad ascoltare perché lei ha proprio una bella voce e questa è sempre stata la mia sua canzone preferita ed è veramente bella vi lascerò tutti i link qua sotto e neanche ve le posso far ascoltare perché non lo so mi scoccia e quindi passiamo alla parte ancora più super futile che è lo shopping che io ho fatto nel mese di luglio ho comprato varie cose ho speso un mare di soldi un mare significa tanti veramente tanti e ho comprato vari vestiti che non vi faccio vedere perché sono così magliette mi scoccia aprirle bla 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 aprirle forse aprirle è tutta quella roba dei verbi transitivi intransitivi che noi del sud usiamo aprire una maglietta non credo esista va bene farvele vedere spianate non lo so e quindi vi faccio vedere le cose che mi sono messe accanto cioè quattro paie di scarpe scarpe io le chiamo scarpe ma in realtà queste tresciate allora dovete sapere che io nella mia mente sono nera purtroppo non lo sarò mai me ne rendo conto però nella mia mente io lo sono e quindi ho comprato queste tresciate che qua usano tutti quelli del ghetto e io mi fingo nera e sono veramente fantastiche mai usate 25 pound adesso 25 pound un paio di ciabatte anche no ma io ero veramente in vena di spendere e le ho preso me le porterò in Italia perché vado in Italia per dieci giorni sperando che mia sorella si degni di partorire entro quei dieci giorni ma forse non succederà e io diventerò una bestia poi ho comprato queste da Primark 3 pound sempre ciabattazze tipo da mare poi ho comprato queste Adidas Stan Smith al charity shop 21 pound che è caro per essere il prezzo di charity shop però sono hanno il retro pitonato e mi piacciono perché sono più o meno magre sottili e leggere non sono come le classiche Stan Smith come si dice perché io non so parlare non sono come le classiche Stan Smith tutte dure va bene comunque sono proprio leggere e morbide e snelle perché non mi piace usare scarpe troppo grosse e infine ho comprato queste i sandaloni Sayonara di Mosè questi erano in saldo costavano 88 pound io va bene che sono buoni di buona qualità eccetera però io 88 pound un paio di sandali forse mai e allora li ho comprati con un super sconto c'era non lo so uno sconto e in più c'era anche un extra 25% e li ho pagate poco più di 40 pound e 40 pound già è un prezzo accettabile comunque questi sono i classici sandali che fanno schifo a tutti tranne di a me ovviamente poi ho comprato sempre al charity questa borsa di top shop che avevo visto l'anno scorso credo in negozio e costava 65 pound non li avrei mai spesi e l'ho pagata 11 pound e anche l'altra colla ed è molto bella e capiente poi ho avuto un po' un momento di follia e sono andata da H&M Home dove ho comprato questo che è una specie di vassoione dove tengo tutte le mie creme e sempre da H&M Home ho comprato questa candela ma c'è ve l'ho fatta vedere o no ah no ve l'ho fatta vedere su snapchat mamma mia questa candela cotton che però non sa di cotone tipo tipo di bucato come quelle là di Yankee Candle ma sa secondo me la versione in candela del mio profumo preferito che è il Samsara di Guerlain cioè sa di un pulito però di un pulito elegante mamma mia io veramente sono innamorata di questa candela poi avevo un buono da antropologi che non credo ci sia in Italia comunque è quel negozio famoso dove fanno dove fanno queste cose qua aspetta dove fanno queste tazze qua che è un negozio che ha cose per la casa e anche vestiti ma tutto stracaro avevo un piccolo buono da 10 pound e aggiungendo un paio di pound ho comprato questo che è un un po' già bicchiere però io lo tengo in camera perché è bellissimo e poi ho comprato un bicchiere che tengo sempre in camera dove tengo una forchetta forbici bollimet e cose per la pedicure e per la manicure e e poi ho comprato tre ultime cose oltre appunto a due reggiseni fantastici che non vi faccio vedere perché non mi interessano comunque che mi fanno delle tette bomba io non ho le tette grosse comunque però questi reggiseni veramente top allora poi io non sono una grande amante delle cover per il telefono oddio già siamo a 23 minuti io non lo editerò mai non me ne frega niente scusate e comunque non sono una grande fan delle cover per il telefono tanto che ne ho sempre avuta una nel telefono precedente non l'ho mai avuta comunque in questo ne ho sempre avuta una da quando ce l'ho da dicembre a ora e e si è distrutta una della skinny dip che adesso tutti i disegni sono stati grattati col tempo quindi la skinny dip tanto cara quanto qualità infima come quelle del cinese di 20 centesimi ne ho comprato un'altra sempre di skinny dip però con un super sconto a 6 pound questa l'ho presa da top shop e ci sono tutti questi feri di cavallo con scritto babe che è una parola che io uso spesso babe e poi è rosa è carina e ha i glitter e per 6 pound andava bene ora anzi la apro e la cambio oggi o forse domani non lo so comunque ce li ho da 100 anni queste cose poi sempre per spendere soldoni sono stata anzi non è che sono carissimi erano in sconto sono stata all'Neraide che come sapete è la mia marca preferita per gli orecchini e quindi adesso sono a quota 5 paie e ho comprato la versione sobria e nude così violetta dei miei preferiti che vi feci vedere in un video 100 anni fa che sono invece di un azzurro brillante e quelli sono i miei orecchini preferiti e ho preso questi 36 pound di sconto c'era il 40% se non sbaglio ed infine occhiali da sole vivendo in Inghilterra dove il sole non c'è il sole c'è però tipo un giorno l'anno ho trovato i miei occhiali da sole preferiti di tutta la mia vita di Miu Miu mai trovati sconto da quando mi piacciono cioè da 3 anni credo li ripropongono sempre magari con glitter o con fantasie un po' diverse quindi questi saranno anche vecchi e stravecchi però più o meno sono sempre quasi uguali anche le nuove collezioni e sono sempre costati 290 pound che neanche se vivessi ancora in Sicilia probabilmente spenderei una cifra simile nonostante il sole ci sia tutto l'anno perché comunque veramente piange il cuore li ho trovati per la prima volta in saldo e li ho pagati uno sproposito come ve lo l'ho già detto su snapchat 174 pound che è veramente troppo ma li ho trovati in saldo che non sarebbe mai successo e quindi li ho presi aspettate questi occhiali sono meravigliosi sono stupendi sono i miei preferiti della vita gli occhiali più belli del mondo sono tartarugati e hanno tutti questi glitter questi brillantini mamma mia non so manco se li userò mai perché per il mio stile come avete visto ciabatte compagnia bella non sono proprio tipo da glitter però ma che cosa me ne frega a me non interessa niente più niente di niente basta tanto è inutile che raccolgo soldi per fare cosa per comprare cosa va bene ragazzi quindi vi ho fatto vedere tutto mi sento veramente soddisfatta adesso e mi sa forse è troppo tardi ma mi sa che voglio girare finalmente anche il video del make up non dei rossetti del make up che ho comprato così inizio a sistemarlo nei cassetti e quindi io vi saluto siamo a quasi 27 minuti vi ringrazio se mi avete seguito fino alla fine se no ciao ci sentiamo presto caricherò il prossimo video tra due settimane o comunque giorno 15 in meno di due settimane poi io andrò in Sicilia e tutto e mi raccomando seguitemi su snapchat perché lì pubblico quasi ogni giorno tranne quando sono in fase un po' un po' antisocial e basta quindi ci sentiamo presto vi saluto buona giornata ciao ciao